In questa piazzetta qua, in distante il comodo, vi faccio notare le sue cose. Prima, qui alle mie spalle, vedete questa bellissima... Una passeggiata nel vero cuore della città, per offrire l'opportunità di scoprire la sua storia dalle origini medievali fino ad oggi. Un mini-tour che è coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Patari-Rodari e del Don Milani, e che ha completato le attività didattiche del progetto Identità e Territorio, curato dall'Associazione Catanzaro e la mia città. Conoscere Catanzaro per amarla? Eh sì, è il nostro intendimento come Associazione Catanzaro e la mia città. Abbiamo fatto questo corso nelle scuole, grazie al patrocinio del MIUR, per ridare spinta e vitalità alle giovani generazioni per una Catanzaro diversa, perché solo conoscendola si può migliorare. L'itinerario che avete proposto oggi ai bambini? Diciamo, è stata una conclusione dopo le quattro lezioni che abbiamo fatto nelle scuole, di storia, letteratura, arte, geografia e architettura, mettendo, diciamo, tra virgolette in pratica quello che si è fatto nelle lezioni. Cioè hanno visionato quella che è la realtà storica, geografica e architettonica della città di Catanzaro. Piazza Matteotti è stato il punto di raccolta dei piccoli turisti che, curiosi e affascinati di ammirare le bellezze di Catanzaro, dopo una prima sosta davanti al monumento del cavatore, si sono addentrati nel centro storico della città, barcando le sue antiche mura. Attenti e interattivi con le spiegazioni dello storico Mario Mauro, presidente del gruppo storico Città di Catanzaro, i bambini per l'intera mattinata hanno percorso le strade del centro storico facendo tappa nei siti più rappresentativi del passato della città dei Tre Colli. Nata con lo scopo di stimolare le conoscenze storiche delle nuove generazioni in modo da sviluppare in loro una coscienza identitaria, l'iniziativa, patrocinata gratuitamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso l'impegno dell'Ufficio Scolastico Regionale, si è rivelata un vero successo. Cosa hai imparato in questo progetto? Abbiamo imparato che il ponte Morandi, quando è stato costruito, è stato come lunghezza il primo ponte più grande del mondo, Comarcata è il secondo più grande del mondo. Perché prima, per attraversare tutto il territorio, per andare da una parte all'altra, c'era bisogno di scendere e poi risalire, invece grazie al ponte Morandi è tutto diritto, è più facile. Caranzaro venne fondata nel Medioevo, ma prima nella fondazione di Caranzaro, quando c'era l'antica Grecia, la Medioevo aveva fondato Simbari, Reggio Calabria, Crotone, Scilla e altre città. Quando c'erano i bizantini, Caranzaro è stata fondata, già col cristianesimo. E così hanno sconfitti i francesi catanciaresi. E grazie a questo grande, visto che li hanno sconfitti i francesi catanciaresi, Carlo V gli donò il segno di Aquila. Che oggi che cosa rappresenta? Lo stemma di Catanzaro, infatti rappresenta Catanzaro. Prima parlavate di una storia d'amore tra due giovani di Catanzaro, te la ricordi? Sì, allora, c'erano queste due famiglie. Una voleva fare il rinascimento, quindi l'unità di Italia. L'arte voleva il governo borbolico, vuol dire il regno delle due Sicilie. Quindi queste due famiglie erano nemiche? Quindi, però, la figlia, Rachele, e il figlio, sa vero, ci fu un amore. E, però, un giorno quando andò di nuovo Saverio da Rachele, i fratelli se ne accorsero e avevano dei fucili in mano e gli dissero, o te ne vai oppure ti uccidiamo. Quindi, Saverio per la paura scappò. E oggi che cosa avete visitato? Oggi abbiamo visitato, abbiamo visto, cioè, la chiesa a Monte dei Morti, il Duomo, abbiamo visto la statua della Madonna con Gesù, e poi... Poi abbiamo visto... La casa di Rachele, è giusto? Sì, poi abbiamo visto la casa di Rachele, il castello, una torre... E cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti ha colpito? Il Duomo. E perché è grande, è imponente, ci sono tante cose dentro? Sì, perché poi ci sono... C'è più abbellito, poi ha delle statue belle, ha la porta delle decorazioni. Ma prima di oggi non l'avevi mai visto? Sì, l'avevo visto. Di Catanzaro oggi hai imparato anche che era un posto dove si produceva la seta, giusto? Sì. E allora, la seta era molto famosa a Catanzaro, e infatti gente di tutto il mondo veniva a Catanzaro per comprarla e spesso veniva comprata anche in grosse quantità perché era difficile arrivare a Catanzaro. Lo sai perché Catanzaro viene definita la città delle tre V? Te l'hanno detto? Sì, perché ci sono tre V. Le più importanti che rappresentano la città sono Vento, Vitaliano, Velluto. Un giudizio che non può non arrivare spontaneamente dopo aver ascoltato i bambini delle scuole cittadine esporre con dovizia di particolari e con inconsueto entusiasmo quelle pagine di storia in cui si intrecciano le loro origini e il loro futuro. Questa che c'è alle vostre spalle è la Basilica dell'Immacolata.